ciao a tutti questa è una review acquisti dal sito brillanti creazioni allora sono tutte catene per chainmail di diversi colori volevo provare è già il secondo ordine che faccio da brillanti creazioni mi sono sempre trovata molto bene puntuali nella spedizione velocissimi e in due giorni tra al massimo arriva tutto le catene sono molto buone e queste sono quelle che ho acquistato questa volta allora partiamo dalle diamantate questo è colore rosso poi c'è il blu poi ho preso l'argento e due forse il blu non si è visto e il rosso e diamantate e il verde questo verde è bellissimo poi le altre che ho preso sono sempre blu però si vede il colore è sempre lo stesso ma le due rifiniture tra la diamantate e l'altro tipo si vede cambia un po il colore leggermente poi ho preso sempre un altro blu sempre uguale a questo a quello che vi ho fatto vedere prima un azzurro meraviglioso anche questo questo fucsia credo sia il melanzana il viola il rosa l'argento questo lilla meraviglioso il verde chiaro e il nero ecco nero dimenticato tra le diamantate anche il nero e loro molto carinamente mi hanno mandato due svaroschi capri blu ab ora sono pronta per partire con qualche lavoretto in chain mail sicuramente il primo che farò sarà una maglia bizantina con i calori blu e argento perché mi è stata richiesta sia il brazzaletto che gli orecchini poi ve li farò vedere ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti